Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. Come conduttore televisivo, ha all'attivo al 2022 circa 740 prime serate e oltre 8200 puntate di programmi in The Time sulle reti Mediaset. Uno dei momenti più dolorosi della sua vita è rappresentato dalla separazione e poi divorzio dalla moglie Patrizia Grosso, che è anche la madre di suo figlio Edoardo. Nell'intervista ritorna a parlare di questo delicato argomento spiegando come lasciarsi sia stata una decisione della moglie. Un divorzio per il quale ha sofferto moltissimo. Scotti ha spiegato come dai suoi genitori abbia appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia e che, quindi, il fatto che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. La vergogna di essere arrivato a scrivere la parola fine alla storia della sua famiglia, anche a causa del lavoro che lo assorbiva molto. Una sofferenza dovuta anche alla forzata separazione dal figlio, dal non poter più vivere con lui. Da lì la capacità di instaurare con lui un rapporto così profondo tanto che Edoardo ha poi deciso di chiamare Virginia alla prima figlia e lui, il nonno Jerry. All'anagrafe fa proprio Virginia di nome.